Porto che non protegge dai marosi, pericoloso quando il vento soffia da levante, quasi un paradosso per una infrastruttura che ha l'obiettivo di diventare tra le più importanti del mar Adriatico. A Ortone il problema è serio con il mancato completamento del Molo Sud realizzato solo per metà che avrebbe dovuto risolvere il problema dell'insabbiamento ma che ha causato invece ulteriori problemi alle imbarcazioni, una quarantina tra motopescherecce e vongolare, numerose anche le piccole barche dedicate alla pesca con le rettine da posta. In caso di venti da sud-est i marosi sbattono sul Molo Nord e arrivano con violenza all'interno del porto creando effetti devastanti, rollio, beccheggi esagerati, imbarcazioni danneggiate che sbattono tra loro danni a non finire e molti armatori decidono di trovare ospitalità altrove, tra Vasto, Pescara, San Benedetto, Giulianova, il porto di Ortona rischia di rimanere deserto. Abbiamo subito danni, siamo stati nottati qua a fare la guardia, le barche perché non le puoi lasciare, si può saltare una betta, si può truccare una cima, può succedere di tutto. Purtroppo ormai sono 5, 6, 7 anni che si verifica questa cosa, quando hanno fatto questa riga ma non si muove nessuno. Qua abbiamo sollecitato, abbiamo fatto, guarda il porto come stava, è vuoto, ma ci stanno 6, 4 vongolari, ma se tu ci trovi da mezz'ora non ci sta nessuno. Le barche sono andate a Vasto, a Pescara, a Giulianova, ma qua stiamo all'assurdo. Tu invece di stare sicuro nel porto, ce ne devi andare perché c'è il porto meno sicuro che... è una cosa allucinante, questo è diventato veramente insostenibile e poi nelle istituzioni, nessuno nella capitineria, né il comune, né la regione, né il ministero, non fa niente perché qua ognuno pensa ai fatti suoi e nessuno si muove, questa è la realtà. Non siamo preoccupati, qui affondiamo le barche se arriva questo cattivo tempo. Qua stanno alcune barche che stanno aspettando per ritirare in cantiere, stanno aspettando per mettersi al sicuro e quelli che rimaniamo a sorta di Dio. Quindi bisogna sperare che mentre il Levante... Speriamo, eh sì, in teoria sì. Levante, Greco, speriamo che non arriva, arriva più debole, meno forte di quello che mette e speriamo che vada tutto bene. Tutto questo mentre si aspettano milioni di euro previsti dal Master Pranabruzzo, stanziati proprio per il potenziamento del porto e per il prolungamento del Molo Sud. Lavori, secondo il cronoprogramma, che andrebbero terminati entro il 2024, una data lontanissima mentre il grido di allarme suona forte. Molti come noi che abbiamo realizzato un'imbarcazione nuova varata a giugno, cioè messa in pesca a giugno, varata a gennaio, sei mesi tra coronavirus e quant'altro rallentamenti burocratici per metterla in pesca, ti ritrovi un capitale di oltre 350 mila euro in balia delle onde. Siamo costretti a fare nottate, magari l'equipaggio dovrà fare l'ormeggio, diciamo, alla fonda nel porto di Ortona, quindi passando la sabata e domenica anziché con le famiglie sulle imbarcazioni stesse, sperando che vada tutto per il meglio. Mi dispiace perché fino a due o tre giorni fa c'erano le lodi e lodiamo questo porto perché è in grado di fare il collegamento con tutta Europa, tutto il mondo, diciamo, per operazioni importanti e invece poi quando ci sono queste situazioni non ne parla nessuno purtroppo, noi siamo toccati noi come vongolari, ma i pescherecci, la piccola pesca, cioè qui ci sono delle famiglie che hanno quel reddito, quella rendita, non possono pensare, speriamo che vada bene e la barca non vada al fondo.